salve ragazzi salve a tutti bentrovati sul mio canale youtube con un format che vi avevo promesso che vi ho detto che avrei portato prima o poi ho fatto aspettare un po ma l'attesa è stata ripagata perché sono qui in compagnia di un big boy di tutto rispetto il buon danny che vedete alla mia sinistra prego danny ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti sono daniel compagno di quest'anno dal prossimo anno degli exeed da poco in exeed e mi ha invitato matte proprio per questa sorta di format che voleva creare me l'aveva già parlato e per fare due chiacchiere una sorta di podcast no matteo esattamente diciamo raga che l'obiettivo come avevo detto è quello un po di dare voce a quelli che sono gli esponenti del competitive in isalia e non solo visto che so che un mondo che ormai affascina insomma sempre più le persone quindi è giusto che insomma veniate a conoscenza non solo di quelli che sono magari i player più affermati ma vi porterò anche quelli che magari appunto sono piccoli talenti e giovani promesse che avranno modo di uscire in futuro e non solo perché ho anche in programma di portarvi qualche player estero già ci ho parlato insomma quindi vedrete e credo che porterò un video del genere a settimana quindi ogni mercoledì e insomma appunto oggi con il buon danny che ho ritrovato negli exeed e col quale andremo a disputare la prossima stagione insieme quindi danny sei pronto sei carico che ti vado sono curioso delle domande che hanno preparato su instagram ragazzi io ti sparo le mie poi chiudiamo con quelle del pubblico diciamo e ti devo dire che vabbè alcune erano cringe come potrai immaginare però ho selezionato quelle che più erano interessanti quindi diciamo per per rompere il ghiaccio domanda abbastanza facile anche banale se vogliamo quando ha iniziato a giocare a fifa e se vogliamo anche perché va perché ad esempio mi metto in mezzo anche io all'epoca ero un accanito player di pes poi mi è partita la scintilla per fifa ma allora io ho iniziato se parliamo proprio di iniziato iniziato nel 2003 direttura giocavo su mouse e tastiera avevo 6 7 anni mio padre mi comprò su fa 2000 e perché ovviamente mi piace calcio come piace bene o male a tutti poi ho fatto un po mai detto tempo di anni di fifa poi verso 2007 mi pare sono passato qualche anno perso fatto test del 2007 milotto 2009 per poi tornare con fifa 10 quindi diciamo che anche avuto il periodo pes poi sono tornato su fifa fondamentalmente perché gli amici giocavano tutti a fifa c'è stato quel periodo in cui giocavano tutti a pes e poi giocavano tutti a fifa allora seguivo un po l'onda però se parliamo invece di foot dal 17 si può dire ma il 17 l'ho giocato veramente pochissimo quindi dal 18 per quanto riguarda mai da foot bene sì quindi hai bene o male ripercorso un po la mia trafila perché io iniziato a dirci a fifa 98 sul computer quando potevi fare le partite quelle indoor negli stadi quelli epici e poi da fifa 09 sulla 360 grazie a un mio amico che mi fece appassionare che mi fomentava l'arena che non c'era su pes e quindi da lì decisi di passare a fifa bene quindi abbiamo rotto il ghiaccio con una domanda facilotta andiamo con una domanda un po più specifica perché insomma magari molti non lo sapranno ma tu prima di diventare un player professionista di fifa eri un giocatore competitivo di code quindi diciamo hai avuto sempre questa mentalità competitiva in tutto e per tutto però tralasciando questo che appunto magari se ci racconti anche un po di quell'esperienza qual è stato il momento nel quale hai capito che insomma su fifa potevi essere veramente un professionista e quindi fare di questa passione un qualcosa in più allora sì diciamo che prima ho giocato a code per molti anni anche se ovviamente non ero lontanamente paragonabile a quello che poi sono riuscito a costruire su fifa e a quanto sia bravo su via perché su code ero ero sopra la media ma comunque non ero un giocatore eccezionale non da poterci comunque sperare di farne un lavoro sono passato a fifa principalmente per un motivo perché code e era bello e bello tuttora secondo me ma in italia non c'era futuro purtroppo non c'è futuro al momento ma volevo tra virgolette avere il singolo la possibilità di decidere io le sorti tra virgolette della partita perché comunque quando giochi a code sei in più di uno no sei in una squadra ed è anche difficile trovare mettere insieme quattro test cinque test che poi vadano effettivamente d'accordo che pensino code nello stesso modo o se fosse su fifa che pensano fifa nello stesso modo perché poi ognuno ha un po la sua visione del gioco quindi principalmente per quello sono passato su fifa e per quanto riguarda il discorso di farne il lavoro in verità o comunque che diventi una professione che è diventata non c'è stato un vero proprio momento se non vabbè dopo la vittoria d'atlanta ma diciamo che l'ho sempre presa come una passione veramente l'ultimo perché sapevo che comunque sarebbe stato difficile creare un qualcosa che poi ti desse da vivere e che potessi aspirare a lavorarci a tempo pieno quindi detto lo prendo con una passione poi pian tenino sapevo comunque di essere bravino perché vedevo giocando anche magari contro gente più brava che me la cavavo sempre quindi detto io ci provo nel frattempo cerco di migliorare col tempo poi sono riuscito anche con qualche evento fortunoso a farne una professione ma fortunoso su non fare il modello bene che l'anno scorso abbiamo anche seguito lì a bucarest insomma l'anno scorso veramente appunto probabilmente i ricordi più belli no relativi alla tua carriera è comunque una carriera giovane perché fondamentalmente si è iniziato appunto a essere un giocatore professionista al vero senso della parola dall'anno scorso da fine dall'anno scorso quindi da fine anno esatto quindi paradossalmente appunto è una è una carriera giovane insomma ancora tutta da scrivere bene quindi insomma come abbiamo fatto anche l'altra volta al talk delle calciatrici una domanda che mi preme farti è proprio a tal proposito se all'interno della community di fifa c'è un player o più player ai quali ti sei ispirato sia per quanto riguarda lo stile di gioco sia appunto per quanto può essere magari l'aspetto dell'intrattenimento della comunicazione insomma della costruzione di una propria brand identity va chiamiamola così sì ma guarda come ben saprai perché mi conosci io non ho mai preso da un per quanto riguarda stile gioco da un player sempre cercato un po di guardare quelli che simile a me o che io gioco simile a loro e poi cercare di rubare qualcosa da ognuno e cercare di me per quanto riguarda l'ispirazione invece di fare una professione o comunque di costruirsi una figura ho sempre preso in italia come ben saprai l'altro daniele no principe come diciamo identità e al maestro nicolas quindi agli inizi quando iniziato su fifa 18 pro inizio inizio quando ancora faticava a fare quell'oro 1 c'erano sempre principi in italia nicolas all'estero come riferimento non come stile di gioco ma appunto come figura poi da andarsi a creare poi nel tempo ovviamente uno la modella suo modo ma diciamo che secondo me è importante avere dei riferimenti validi per cercare di crearsi una propria brand identity come dicevi tutti poi diciamo che insomma penso che possiamo parlare praticamente per il 99 per cento dei player che attualmente giocano competitivo che probabilmente aspirano anche a farne una professione un po diciamo daniele è stato la pri pista no quello che ci ha fatto appassionare un po un po a tutti e poi hai parlato hai parlato di stile di gioco quindi la domanda successiva era sebbene sappiamo comunque che fifa ci impone ogni anno di doverci un po reinventare no perché penso sia uno dei pochi giochi competitivi in cui ogni anno il meta cambia e ci sono insomma meccaniche che possono essere considerate op eccetera eccetera come definire estiva i tratti salienti e peculiari del tuo gioco cosa ti contraddistingue ma io credo che sia la velocità che purtroppo infatti quest'anno non ho trovato sia un gioco comunque fatto di skill anche se non ti va stritto ma comunque un gioco fatto di skill e di gioco offensivo quindi l'avere gli spazi davanti e ma vera anche poi la velocità per sfruttarli proprio parlo di velocità di gioco di come costruito il gioco direi questo generalmente una pressione medio alta non pressing aspistiante ma comunque una pressione medio alta poco giro palle tanta velocità bene giusto così che infatti poi anche lo stile di gioco no che insomma è anche più bello da vedere perché io mi do anche un po la zappa sui piedi su questo aspetto perché magari l'anno scorso non è stato un gioco che mi è piaciuto tanto però sicuramente innegabile che era molto più bello da vedere rispetto alle partite che soprattutto ci sono quest'anno ad alti livelli si tolti quei tornati cross e quelle porcherie per il resto la velocità di gioco era più godibile sicuramente si infatti proprio stamattina ho visto su twitter una clip di un player che se n'è andato con degli uno o due che era un'altra cosa insomma ma pure io giocavo con rombo quindi è quanto dire bene quindi abbiamo dato anche quelli che sono i tratti salienti del tuo gioco per chi non ti conoscesse magari voglia iniziare a guardare il tuo gameplay prossime domande che ti farò sono diciamo quelle che arrivano dal pubblico anche se ce n'erano un paio che avevo già selezionate e la prima è una domanda che mi fanno spessissimissimo anche a me ossia qual è stata tra virgolette la reazione dei tuoi genitori quando insomma hanno capito che la tua passione stava diventando un lavoro vero e proprio insomma come l'hanno presa se t'hanno incoraggiato hanno capito sempre al cento per cento eccetera eccetera ma allora è stato fortunato si può dire ma l'ho cercato sempre di gestirla un po la mia maniera nel senso io appunto nel frattempo che faceva cercavo di fare un lavoro nel frattempo che era una passione ho frequentato università come sai mi sono laureato lavoravo lavorato fatto volte un'officina poi lavorato al ristorante per tre anni e mezzo quindi diciamo che sì i miei di tanto mi vedevano qua però soprattutto era la notte qua quindi neanche sapevano forse si diceva ogni tanto gioca perché c'è quella passione da sempre ma non sapevano di fatto che aspiravo a fare un lavoro ma non glielo mai detto perché sapevo che non avrebbero capito non è una loro colpa cioè non è non è fattibile che soprattutto qua parlo principalmente per il piemonte e la mia zona dove siamo ancora molto radicati alle alle vecchie alle vecchie abitudini è difficile che un genitore lo possa capire ma noi stessi dobbiamo capire questa cosa quindi non glielo mai detto ovviamente sapevano eccetera eccetera poi con le qualifiche i vari tornei diciamo che ho iniziato a mettere un po di pepe nella cosa è ovviamente mio padre soprattutto che un tipo estremamente competitivo ha detto ma vabbè comunque se sei bravo perché no poi con la vittoria ad atlanta eccetera 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 sono successe tante cose con la creazione canale twitch mio padre ha iniziato entrare un po nel giro e ora posso dire che c'è pieno supporto anzi mio padre mi chiede qualunque cosa come va come non va sembra il coach sembra il coach di casa quindi diciamo che sono fortunato perché comunque mi supportano a pieno regime ma vedono che comunque ci mette dell'impianto ci metto del tempo c'è da lavoro dietro a tutto quello che si fa sì sì per esempio l'ho raccontato più volte che ad esempio capitava anche a me no che insomma dopo la giornata di studio eccetera eccetera magari appunto stavo qua davanti a giocare magari i primi tempi sai arrivava mio padre alle 8 dopo che lui aveva lavorato tutto il giorno io avevo studiato tutto il giorno però mi trovava sempre a giocare cioè ma tu stai sempre qua a giocare eccetera poi già alla prima volta i play off di hamsterdam ad esempio mia sorella non posso mai dimenticarlo tengo ancora salvato un video salvato sul telefono e dove appunto c'erano mamma e papà davanti a youtube che guardavano è chiaro perché purtroppo non è una colpa lorenna vengono da altri tempi quindi insomma ci già dare il tempo di capire e soprattutto dar comunque la priorità al resto come io ho sempre fatto cioè prima che diventi una professione lo studio eccetera eccetera vanno la priorità su queste cose altamente successiva domanda anche questa molto interessante che avevo già pure io nel parco domande è la seguente sia in un futuro una volta dismessi panni del player cosa ti piacerebbe fare ossia ti piacerebbe rimanere in questo mondo magari che so come owner di un team come coach banalmente solamente come streamer influencer eccetera o per il futuro ai altri progetti in altri campi oltre ristorante che dobbiamo aprire in america colli ma allora io come appunto sai vorrei rimanere in questo ambiente magari non in fronte come player altri penso tre o quattro anni di poter dare ancora qualcosa poi come sicuramente streamer eccetera per altri sette otto anni quindi da arrivare a un dieci anni totali magari anche all'interno di qualche team perché non lavorare come coach lavorare come responsabile magari della ricerca dei player quindi una sorta di scout proprietario di un team onestamente non mi vedo al momento e neanche fra 5-10 anni soprattutto in italia però vedremo come andranno le cose il mondo corre veloce non lo possiamo sapere la cosa certo come dici tu e potrebbe succedere a breve anche non tra qualche decina di anni che vorrei aprire un ristorante forse partendo qua in zona da me e poi magari perché noi futuro un bel ristorante in america con te olio con chi ci sarà o anche da solo perché a me piacerebbe avere un'attività e visto che ho lavorato tra ogni mezzo di un ristorante che comunque aveva già un bel giro eccetera eccetera mi piacerebbe molto visto che mi affascino la cucina sicuramente ripeto voglio rimanere ancora in questo ambiente e sto cercando di costruirmi comunque la mia figura all'interno di questo ambiente sia come player che poi dopo come streamer eccetera però ripeto non si sa mai che qua da un anno all'altro cambia tutto che non puoi sapere per chiudere una domanda forse la più spammata in assoluto e anche questa avevo comunque pensata ma ti giuro penso su centinaia di domande che sono arrivate 60 era questa domanda qui ossia quali sono i consigli diciamo che ti senti di dare a chi si avvicina a questo mondo sia diciamo per proprio per approcciarsi sai magari anche a poter pensare di intraprendere una vera e propria carriera e sia su quali possono essere i consigli per migliorarsi per arrivare poi a questi livelli allora voglio dedicarci qualche minutino in più partiamo dal fatto del migliorarsi quindi partendo dal lato tecnico secondo me sta molto l'autocritica con ognuno perché perché bisogna capire e secondo me ognuno lo può capire se effettivamente c'è una base di talento oppure no c'è un conto essere bravi un conto essere bravini bisogna capire se effettivamente sì e notare nel tempo nel frattempo che appunto si dà magari precedenza altro ma si tratta come una passione questa cosa se effettivamente si può aspirare a entrare nel giro dei più grandi no perché no e non bisogna fare un'ossessione come dico sempre in live perché poi l'ossessione se non si controlla rischia di ucciderti di ritorno quindi se uno ha la passione in fifa se uno gli piace fifa deve mettersi lì guardare quelli più bravi come diciamo sempre cercare di apprendere rubare con gli occhi perché la cosa più importante e cercare di replicare non si otterranno subito risultati come in ogni cosa ci vuole un minimo di tempo ma uno si dà un tot di tempo dice cavolo dopo un anno dopo un anno e mezzo effettivamente sono arrivato fino a qua quindi vuol dire che posso migliorare tanto se si vede che si sta sempre allo stesso livello si deve capire anche a un certo punto dire vabbè non fa per me come ogni cosa questa non fa per me ma questo non vuol dire che se non fa per te è un disastro cioè ognuno sa fare le proprie cose ognuno è bravo in certe cose a certi talenti piuttosto che un altro io in tante cose non sono bravo in questo sono riuscito a prendermi qualcosa quindi la prima cosa secondo me non fare un'ossessione cercare di migliorare rubare con gli occhi dagli altri e soprattutto rimanere sempre con i piedi per terra perché e qua ci colleghiamo all'altro discorso come fare di questo mondo una professione non si può sperare di giorno da un giorno all'altro diventare qualcuno semplicemente avendo fatto un 30 0 avendo fatto un 27 avendo battuto il pro di tour bisogna lavorare solo bisogna crearsi di macchina perché spesso tanti ragazzi non si rendono conto di questo aspirano tutti a fare i pro ma i pro al giorno d'oggi ci vivono in pochissimi quindi se siete grandi se avete già di 21 22 anni dovete aspirare immagini perché poi anche lì l'immagine vi dura nel tempo e il mondo del al giorno d'oggi lo sai meglio di me funziona proprio così cioè funziona sull'immagine tu puoi essere fortissimo ma se non lo sa nessuno rimani nella tua piccola cerchia tu puoi essere magari mediocre fra i pro mediocre fra quelli che lo fanno già a livello poppa se hai un buon giro se hai una buona fan base sei buoni numeri sui vari social sicuramente lavorerai di più perché poi si parla di questo ragazzi voi magari pensate che sia solo giocare però non funziona così poi per carità potete anche dire io voglio fare soltanto il problema ci sono tanti che lo dicono a me di streamare di crearvi un'immagine non mi interessa e ci sta cioè ognuno prende la sua strada però sappiate che solo di quello e solo con quello raga non andate tanto lontano questa è la realtà delle cose soprattutto in italia quindi importante amitex vari esatto questo importa e quindi è importante anche crearsi un'immagine raga lavorare sui social e vi assicuro che se sarete bravi anche qua rientra in un discorso di un talento che non vi so spiegare ma ci saranno dei treni che passeranno se lavorerete bene se sarete arrivati comunque magari già farvi conoscere un po star a boi puoi riuscire a prendere i treni al momento giusto non farveli scappare e poi a rendere reale e far fruttare quello che magari vi è stato tra virgolette dato da qualcun altro quindi è una serie di talenti raga non è facile ci vuole fortuna perché ci vuole fortuna come in ogni cosa per spaccare veramente sia su twitch sia su youtube sia nel competitivo eccetera però sappiate che grosso ce lo dovete mettere voi potrei fare mille esempi non li faccio perché ovviamente non si sparla e non si fanno esempio tra mille esempi di ragazzi che non ce l'hanno fatta raga magari continuano ma non ce l'hanno fatta magari un giorno non ce la farò neanche più io però insomma se riesce ad avviarti bene ragazzi lavorate bene vi assicuro che poi vi tornano le cose poi chi più chi meno cioè non siamo tutti cristiano ronaldo non siamo tutti messi raga purtroppo quello mettetevi in testa e guardate sempre più il vostro giardino che quello degli altri raga perché vi assicuro ripeto che se riuscite a essere furbi e lavorate bene furbi non vuol dire essere disonesti eccetera essere furbi in senso buono vi assicuro che riuscirete a crearvi qualcosa però non fate un'ossessione e soprattutto date precedenza al resto perché una laurea che qualunque laurea un diploma un pezzo di carta dell'esperienza lavorativa sul campo invita più garanzie in futuro di quelle che vi può dare questo mondo soprattutto perché appunto se non spaccate veramente e hanno spaccato in pochi non ce la fate poi quindi date precedenza al resto da questa si riesce a far crescere come passione io l'ho fatto prima lo facevo che ne so studiavo cinque ore al giorno poi al weekend andavo lavorare a volte il meridio il sabato la domenica a volte il mercolì quando capitava e poi quando avevo quelle due o tre ore di tempo lo dedicavo qua adesso lo faccio full time perché sono riuscito a trasformarlo da una passione al lavoro però non è facile ragazzi sognate ma non sognate troppo restate con i piedi per terra e vedrete che qualcuno di voi uscirà per forza anche perché il mondo va sempre più avanti quindi probabilmente tra qualche anno ci sarà sempre più richiesta si spera se no è infatti perfettamente d'accordo proprio con ogni singola parola poi insomma sono cose che ci diciamo pure spesso tra di noi per quando facciamo live insieme ormai penso che la gente veramente se non l'ha capito e se non lo vuole capire vuol dire vabbè quello che non fa quello che vuole e niente intanto danny ci eravamo detti quanto vogliamo parlare una decina di minuti siamo arrivati quasi a mezz'ora quindi praticamente una puntata la possiamo caricare su netflix invece che sul tempo quindi direi che possiamo anche concludere veramente è volato il tempo secondo me credo e spero che insomma ne è venuta fuori una bella chiacchierata godibile per quelli che insomma se la guarderanno e niente io ti ringrazio a te perché comunque fa piacere ed è stato secondo me è un bel format che vedrai che secondo me riscorrere risposta vabbè avete capito molto esatto molto successo sì sì è l'obiettivo proprio insomma quello appunto di sviscerare temi che insomma sono caldi sotto questo punto di vista con persone che poi ne hanno tutta la facoltà di poterlo fare ed è stato secondo me top inaugurare questa questa rubrica con con te quindi ti saluto salutiamo tutti quanti ragazzi a presto ci vediamo sempre lo sapete e niente ragazzi grazie a tutti per la visione è un salutone peace Grazie a tutti.